Ci proiettiamo già alla prossima gara, andiamo già ad Ostuni perché lì ci giochiamo grandi chance per migliorare la nostra posizione. Nella gara interna con Manfredoni portiamo a casa i due punti che mancavano, adesso guardiamo un po' più in là. È chiaro che la partita di oggi fa poco testo perché chiaramente ci rendevamo conto di quello che c'era in campo e che potevamo portarla tranquillamente quindi è stata soft. Non sarà soft a Ostuni perché è uno spareggio probabilmente per una posizione quindi bisogna andare lì molto determinati, molto concentrati con una squadra che ha fatto il risultato ieri quindi ha risistemato le sue cose. Se vogliamo avere qualche possibilità in più deve andare a vincere lì, non ci sono alternative. Situazione un po' pericolosa o no? Questa di fine stagione regolare nella quale l'obiettivo in inizio stagione a portata di mano, magari si rischia un attimino di uscire dai binari oppure di ricaricarsi al punto giusto per giocarsi al massimo le chance playoff poi? Questo è sempre stato così, cioè ci sono dei momenti in cui puoi mollare, ci sono dei momenti in cui puoi affondare il colpo e nonostante le vicissitudini, io credo che tutto sommato abbiamo avuto la forza di venirne sempre fuori. Adesso siamo in una situazione tranquilla, magari troppo tranquilla oggi. Dobbiamo ritrovare un attimino di carica in più per affrontare queste due e poi giocarci playoff serenamente perché abbiamo poco da perdere noi. Due punti da Ostuni, agganciamo Castellaneta ma abbiamo il 2-0 sfavorevole. Che cosa dobbiamo attenderci alle prossime due partite? Andiamo a Ostuni e poi Ceglia in casa. Io credo che saranno comunque due battaglie perché Ostuni vorrà vincere per chiudere il conto per quanto riguarda la posizione, poi verrà l'ex capolista, ora capolista in condominio quindi vorrà per forza vincere su questo campo, noi l'ultima partita in casa della stagione regolare non credo che vorremmo fare una brutta figura quindi cercheremo di giocarcela meglio e giocheremo per vincere, quindi due grandi battaglie per chiudere la stagione regolare. Fai il capo condominio per un attimo, come vedi quella corsa a tre lì per il primo posto in classifica? La corsa a tre, onestamente, a tanto che dicevo Corato secondo me è favorito perché ha lo sconto diretto con monomole in casa, un calendario molto più abbordabile e mi sembra che abbia il morale molto alto, non ha mai mollato, vedo leggermente in difficoltà in questo momento Ceglie per cui se devo dare un primo posto teorico a tavolino lo dare a Corato.